Romina Power sorprende. Albano? Come se non ci fossimo lasciati. È tornata Romina Power a raccontarsi. Tanti gli argomenti toccati da Romina Power a Verissimo tra cui l'amore. In particolare Romina Power ha parlato del suo primo amore, Stash, che ha poi lasciato per Albano, diventato successivamente suo marito. Per gelosia Albano mi ha fatto bruciare tutte le lettere di Stash. Era gelosissimo. Non geloso. Ha raccontato Romina Power. Poi a Verissimo, si è discusso dei rapporti attuali tra Romina Power e Albano e la cantante ha detto. Sono ottimi. Non ci vediamo mai. Ogni tanto ci sentiamo. I rapporti sono buoni. Sul palco scenico è come se non ci fossimo lasciati. E, tutto come prima. Il dolore per la perdita di un figlio, è qualcosa che in un genitore non passa mai. Se poi a quel dolore si aggiungono diversi punti di domanda e incertezza allora diventa insopportabile. Lo sa bene Romina Power che da tempo fa i conti con la scomparsa della figlia Ilenia avuta con Albano. Della figlia di Romina Power, su cui si è espresso Maurizio Costanzo, si è sfiorato l'argomento a Verissimo nella puntata di oggi. In particolare Silvia Toffanin, ha chiesto alla Power quale giorno della sua vita vorrebbe rivivere. Dunque Romina Power a Verissimo, ha detto che vorrebbe riviverne uno immaginario con tutti i suoi figli. Poi però, ha aggiunto, vorrei rivivere un giorno con Ilenia. Parole che hanno commosso profondamente la conduttrice. Nella vita di Romina Power, per quanto riguarda il mondo dell'arte, non c'è stata solo la musica. Romina, infatti, ha recitato anche in diversi film. E proprio adesso la Power torna al cinema con il film La Fiera delle Illusioni, un riadattamento della pellicola interpretata da suo padre. La parte che fu del padre di Romina Power, è interpretata da Bradley Cooper. A Verissimo Romina Power sulla nuova esperienza ha raccontato. È, stato bellissimo osservare il regista al lavoro. Bradley Cooper, è, stato molto carino e bravissimo nel ruolo. Però mio padre era più bello.